Ciao ragazzi, come state? Oggi vi propongo un video diverso dal solito riguardo al risparmio per il prossimo anno Allora, risparmiare è uno dei miei propositi per l'anno nuovo quindi per il 2017 e ve lo propongo in maniera un attimino più alternativa Allora, ho trovato, sono iscritta al gruppo di Facebook delle cartopazze che saluto tutte Ciao ragazze e ho visto tra i vari file questa immagine Questa immagine è stata pubblicata da Michelle Passera che saluto e ringrazio per avermi autorizzata a utilizzare appunto questa immagine ed è praticamente una challenge su come risparmiare in 52 settimane, quindi nell'anno Praticamente, come avete visto dalla foto ogni settimana è corrisposto un importo in denaro quindi settimana 1 risparmiare 1 euro settimana 2 2 euro settimana 3 3 euro e così via fino ad arrivare appunto alle settimane di fine anno quindi 50, 51, 52 dove bisognerebbe mettere da parte 50 euro, 51 euro e 52 euro Allora, io vorrei fare questa sfida però non voglio assolutamente farla in questo modo perché a fine anno poi avrei talmente una botta di soldi da dover mettere nel salvadanaio che ragazzi poi tra i regali e tutto quanto non credo che ci riuscirei quindi sarei più che certa di perdere questa sfida specialmente alla fine, quindi è un peccato quindi ho voluto un po' rivoluzionare questa sfida cioè, allora, ho acquistato da Aliexpress queste pastiglie sono proprio delle pastigliette molto carine con delle faccine kawaii vedete, questa ad esempio ha i cuoricini questa fa l'occhiolino questa ha il cuoricino insomma, ce ne sono tante di solito le vendono in buste da 50 pezzi no, scusate, 50 50 o 25, non mi ricordo e niente, insomma volevo utilizzarle per perché sono particolari vi faccio vedere allora, all'esterno sembra una pastiglietta normale ma voi la aprite e c'è questo rotolino di carta con questo pezzo di ferro e abbiamo all'interno un bigliettino avete presente le bottiglie quelle che si lanciano nel mare? ecco, una cosa molto più easy, insomma quindi adesso il mio obiettivo è raccogliere 52 di queste pillole e su ogni pillola scrivere un numero da 1 a 52 poi, allora queste intanto sono 10 giusto per farvi vedere come fare è un po' semplice quindi ho già scritto il resto su tutte queste vedete, sono le altre 42 e le metto in questo barattolino che poi voglio decorare con il dovinci non con il fimo magari con qualcosa del dovinci come pasta siccome, diciamo, pasta non lo so vedrò e poi attaccherò qualcosa o di fimo o di resi insomma, dopo lo decorerò e così ogni settimana a partire dalla prima di gennaio pescherò una pillolina ad esempio vi faccio vedere ecco, ho pescato questa queste qua, appunto, come dicevo le ho già scritte aprirò il bigliettino vediamo la settimana 1 dovrò versare 39 euro bene, insomma bell'inizio bello tos ok e quindi li verserò, appunto in questo servadanaio che ho comprato allora l'ho comprato di latta vedete non si può aprire assolutamente a meno che non si rompa quindi durante l'anno non mi verrà la tentazione di riprendermi soldi in poche parole quindi insomma mi sembra un ottimo modo per risparmiare allora facendo i conti se voi fate i conti quindi settimana 1 più la 2 la 3 e così via arrivate a 1378 euro mi sembra non sono sicura al 100% mi sembra di sì non mi ricordo adesso l'esatta cifra e se ci pensate è insomma un gran risparmio c'è chi vuole che qualcuno vuole farlo a metà quindi settimana 1 si mette 50 centesimi la 2 1 euro e così via quindi si dimezza poi il risparmio ok quindi parto giusto per farvi capire la parte pratica prendo una penna uso questa guardate che carina che è vi farò dopo magari un giorno vi faccio vedere nel mio room tour tutte le mie penne super carissime che ho quindi allora super carissima ma difficile da aprire e allora ho rotto la penna sono un genio ok ce l'ho fatta piccolo contattempo quindi allora su questo foglio scrivo 1 euro ok quindi poi lo chiudo lo attorciglio su se stesso lo rimetto nell'anellino ecco qua e lo metto dentro la capsulina e poi lo infilo all'interno del vasetto tadan si è molto semplice ovviamente se non avete queste pastigliette potete comunque farle anche con dei semplici fogliettini di carta che poi pescherete voi a caso si non è necessario avere questa particolarità io queste le avevo acquistate ovviamente non per questo progetto le avevo acquistate per altro perché mi piacciono tanto e costavano poco e e quindi insomma ho voluto poi adesso utilizzarli in questo modo se ci pensate potete utilizzarli anche per fare i bigliettini a scuola ma non ditelo alle maestre o ai genitori che ve l'ho detto ok quindi adesso io continuo arrivo fino a 10 e niente poi il lavoro è fatto dopo decorerò il il vasetto e vi farò vedere come finale come come l'ho decorato così mi potrete dire se vi piace o meno ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco qua finito e colorato questo vasetto. Che ne dite? Vi piace? A me tutto sommato per essere la prima volta che usavo la pistola del Dovinci non mi dispiace come è venuto. Poi qua magari metterò un fiocchettino per decorarlo. Ci ho messo appunto dei zuccherini sopra e un centesimo. Così si vede. E questo è il sabadanaio. All'inizio pensavo di decorarlo però secondo me è troppo carino così. Non ci aggiungerò niente. O al massimo ci farò qualcosa qua sopra. Non lo so. Bene, oggi inizia quindi la prima settimana dell'anno. Quindi sceccherò un attimino. Ecco qua. Abbiamo questa pillolina che fa l'occhiolino. Vediamo cosa sarà. 27 euro. Quindi entro questa settimana, quindi entro domenica, dovrò mettere nel salvadanaio 27 euro. Penso che il procedimento sia molto semplice. Se avete qualche dubbio comunque chiedetemi. Credo che comunque sia una cosa divertente ma allo stesso tempo utile perché appunto a fine anno se si riesce a completare questa challenge si avrà un bel gruzzoletto dentro al salvadanaio. Quindi magari ponetevi dei desideri per andarci avanti. Ad esempio io se riesco a finire questa challenge vorrei comprarmi una videocamera più professionale in modo da fare dei video migliori e che metta a fuoco meglio le cose. E poi non lo so, qualche regalino. Si vedrà. Però insomma l'importante è iniziare. Un passo alla volta e incrociamo le dita. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ringrazio ancora per seguirmi. Se avete dubbi, domande scrivetemi pure tranquillamente. E vi mando un grosso bacione a tutti. Ciao ciao! 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 Ciao!